La prima pratica sulla scrivania del neosegretario provinciale del PD Carlo Berra riguarda le imminenti elezioni amministrative di Piacenza tra maggio e giugno. Il partito del centro-sinistra deve ancora trovare un candidato a sindaco. Una figura possibilmente, anzi decisamente condivisa, ovviamente all'interno del PD, all'interno della coalizione, ma una figura che sia altamente competitiva con le altre candidature, in particolare con la candidatura della Patrizia Barbieri. Stasera Berra viene formalmente proclamato segretario provinciale del PD. Da questo momento può iniziare ufficialmente a muoversi da playmaker della coalizione con articolo 1, PSI e altre componenti civiche. Dopo il divorzio a sinistra, con alternativa per Piacenza. Alcune linee guida relativamente a problemi che sono presenti in questa nostra città e provincia, soprattutto nella materia sanitaria e quella logistica. È decisivo dunque individuare il candidato, dopo che l'inchiesta sulla corruzione ha fatto cadere il nome del sindaco di Cereniale Massimo Castelli, arrestato dai carabinieri. Circolano altre ipotesi, i medici Luigi Cavanna e Stefania Calza, o persino l'architetto Giuseppe Baracchi. Niente ha deciso. Resta concreta l'idea di Cristian Fiazza, avvocato e consigliere comunale, ex presidente dell'Aula di Palazzo Mercanti durante la giunta d'Osi, una figura che in queste ore starebbe mettendo d'accordo più parti. Intanto, sempre nel centro-sinistra, lo schieramento di alternativa per Piacenza, che candida a sindaco Stefano Cugini, ha presentato il suo logo e la corsa elettorale dell'ex capogruppo DEM appare ormai parallela a quella del PD, senza una possibile alleanza unitaria.